Crea un coupon promozionale. Dalla gestione e-commerce, clicca su Coupon e su Nuovo coupon. Inserisci il nome codice, la tipologia di sconto, se è un valore percentuale oppure uno sconto in termini di prezzo, lo sconto e se rendere il coupon monouso o riutilizzabile. Clicca su Conferma per salvare il coupon.